Un applauso a Emanuele, è partita la slide, cerca di rimanere all'interno dei due... No, già è partito il tempo, io sono prolissimo. Allora, vediamo un po'. Salve a tutti, io mi chiamo Emanuele Figliolia, non è la prima volta che sto qua, sono il Product Manager di Zerint, lo scopo di questo mio intervento un po' è un secondo atto di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, è un percorso che stiamo portando avanti insieme a Dodu, anche se noi siamo un'azienda indipendente, per cui farò un breve riassunto per chi non ci ha seguiti l'anno scorso, ma lo scopo di questo intervento è portare un attimino in condivisione un'esperienza pratica, quindi un caso che noi riteniamo essere di successo, di quanto avevamo annunciato l'anno scorso, anche per dare il senso di concretezza del lavoro che si sta facendo. Allora, ho detto Product Manager di Zerint, due parole su chi è Zerint, Zerint è un provider di soluzioni industrial IoT, ora sono nomi, non so, immagino che tantissimi di voi abbiano già capito di cosa si parla, noi siamo uno, un provider, quindi un fornitore di una soluzione detta end-to-end di digitalizzazione, analisi sia di macchinari industriali che di processi e maneggiamo anche, abbiamo anche competenze derivando Zerint da uno spin-off dell'Università di Pisa sulla parte di AI, infatti anche noi abbiamo il nostro co-pilot integrata nella piattaforma ed è una soluzione autoconsistente, end-to-end si intende che riusciamo a entrare in fabbrica, ricaviamo digitalizzando qualsiasi tipo di macchinario, quindi non è nemmeno detto che il macchinario debba essere predisposto per comunicare, noi tiriamo fuori da qualsiasi, forse anche un trapano a colonna, le informazioni utili ad alimentare un nostro modello. Il modello è chiaramente un modello di elaborazioni dati basato su cloud, dopodiché andiamo a risolvere, e quello è lo scopo di tutta sta faccenda, dei problemi pratici ai clienti. Su questo palco vi mostrerò il potenziale che una soluzione del genere ha di per sé, va bene, siamo d'accordo, ma non siamo qui a parlare di Zerint, ma il potenziale che una soluzione del genere ha collegandolo al mondo Do, che se immaginiamo è un mondo che sta nel cloud, sull'ether, cioè se io mi occupo delle macchine, come tirare fuori i dati e ho Do su tutta la parte di gestione di un processo produttivo, con il mio connettore se riesco a tenere sincronizzati e uniti questi due mondi, ho fatto bingo. E il caso di successo che vi porterò tra una decina di minuti in condivisione vi mostrerà quante altre nuove idee il cliente sta tirando fuori semplicemente da questa congiunzione. Allora, due parole rapide rapide sul perché esiste Zerint. Zerint si è accorta, essendo uno spin-off dell'Università di Pisa, quindi aveva enormi competenze sulla parte di elaborazione di dati, immaginate gli algoritmi di machine learning, come si gestiscono l'intelligenza artificiale applicata all'analisi dei metadati, poi alla fine, entrando nella fabbrica, soprattutto le PM italiane, ci si è scontrato con un fatto, ok, ma servono i dati. I dati dove sono? Chi ce li aveva erano dati incongruenti, perché magari presi a mano, trasferiti con l'Excel e l'operatore che segna quando si ricorda qualcosa. Tanti macchinari erano completamente non digitali, quindi volendo le informazioni non le si tira fuori. E questa slide sintetizza un po' il motivo per cui noi all'epoca, per cui abbiamo messo in piedi la soluzione Zerint, le cause che determinano il fallimento della maggior parte dei progetti, anche quelli più interessanti, quando poi entrano in una fabbrica PMI, di una PMI italiana. Il 50% degli asset nelle fabbriche hanno almeno 10 anni, ma io vi assicuro che sono entrati in fabbriche di eccellenza italiane con macchine di 30, 35, 40 anni, linee produttive. Poi magari l'imprenditore investe, ma affianca a linee produttive di vecchio tipo una linea produttiva di nuovo tipo, che lavorano con logiche diverse. Ma la vecchia, cioè noi veniamo più o meno da Pisa, tutto il distretto della moda, vi assicuro che ci sono delle macchine che fanno dei lavori perfetti, prodotti di qualità e di eccellenza, ma sono macchine di 40 anni. Che si fa? Si parla di digitale e poi a questo lo lasciamo fuori? No, quindi c'è un problema di estrarre dati da macchinari vecchi, c'è un problema di aggregare queste informazioni, perché anche macchine che fanno le stesse lavorazioni si appartengono a epoche diverse e trattano i dati in maniera diversa. Quindi se io dico ho completato un ciclo di lavoro su una macchina, ho eseguito una punzonatura su una macchina, questa deve essere coerente come informazioni rispetto alla stessa punzonatura che esce fuori dalla macchina digitale. E poi c'è un problema di integrazione col top floor. Ok, io raccolgo tutti i dati, ma non è che posso avere una persona che si prendono questi dati e si li spulciano, si li guardano, si li trascrivono. Ci vuole qualcosa che in qualche modo aiuta ad elaborarli, perché ricordiamo il dato di per sé non ha valore, quello che ha valore è l'informazione, cioè io devo sapere se sono o non sono in ritardo alla consegna di un ordine, non la macchina si è fermata quattro ore nelle ultime sette. Bene, e quindi che ci faccio? Zerint si occupa appunto di tirare fuori tutte queste informazioni e legarle, a questo punto, ve lo dico, ve lo sgamo, ad Odu, perché Odu ha tutto quello che serve per gestire una fabbrica, una PMI, nasce proprio per essere modulare e interessante per una PMI, Zerint alimenta tutto Odu con un automatismo e una copertura di uno shop floor assolutamente efficace. Una nota di mercato, perché si fa tutto questo? Perché stiamo parlando di un mercato industrial in Italia, un mercato che di per sé, senza che nessuno lo tocchi vale un miliardo. È in crescita, almeno del 16% ogni anno, ma ricordiamoci che da quest'anno introdurre tecnologia che aiuta a fare efficientamento di processo e introduca un nuovo concetto di energia, quindi si comincia a legare l'efficienza di un processo produttivo alla riduzione di consumi energetici. È un argomento che sta a cuore ai nostri governanti, lo stanno incentivando, derivando fondi dal PNRR, si parla di transizione 5.0, industria 5.0, rimaniamo con i piedi per terra in concreto, parliamo di circa 4 miliardi investiti affinché i clienti adottino queste soluzioni. Queste soluzioni sono appunto questa combinazione, vedremo, Zerint sulla parte di IoT e Odoo. Se vogliamo entrare un po' nel dettaglio per chi non conoscesse la materia, diciamo che se entrate nel merito di queste nuove norme, transizione 5.0, diciamo che vengono considerati virtuosi quegli investimenti che all'atto poi pratico si dimostrano comportare un efficientamento, non solo energetico, perché ripeto, si parlava di efficienza energetica ai tempi del fotovoltaico, io vengo da quel mondo lì, installare un impianto fotovoltaico porta dei benefici energetici. Quando però si entra in fabbrica l'energia non è l'elemento clou, importantissimo, in tanti settori costa più l'energia che la materia prima per produrre, non solo la plastica o il poliuretano, però poi bisogna efficientare il processo produttivo perché io posso pagare pure un euro, se per un anno non tiro fuori nemmeno un pezzo da una fabbrica è un euro buttato, quindi c'è da legare in fabbrica il discorso saving energetico con efficienza produttiva, io devo spendere il meno per fare il massimo, questo non è il concetto. Quindi c'è un efficientamento e tracciamento della produzione, chi dimostra che riesce a fare questa roba qui riesce a portare in credito di imposta, gli incentivi sono in termini di credito di imposta, cioè io faccio un investimento riesco a tirarmi in credito di imposta una percentuale che vedremo può salire anche al 45%, sono stati messi 3,78 miliardi su questa cosa qui, infatti qua vediamo un po' di percentuali, chiaramente bisogna andare a dimostrare a valle di questo investimento che si è ottenuto un saving. Se si dimostra che questo saving vale il 10% a livello di struttura oppure il 15% se mi concentro solo su un processo produttivo di tutto quello che la fabbrica esegue, si arriva a portare in credito il 45%, questo per dirvi un pochino dal nostro punto di vista quello che sta accadendo, siamo tirati dalla giacchetta da chi in realtà ha bisogno di fare investimenti e questo può essere un driver fondamentale, però ricordatevi non è come il 4.0 dove è una capability tecnica che va certificata, cioè io ti dico che effettivamente la macchina è collegata e ti arriva il credito d'imposta, qua va dimostrata la cosa, qua si fa l'investimento, io dichiaro di essere un potenziale utilizzatore di questo incentivo, però poi ex posto bisogno di dimostrarlo. Noi riusciamo a fare tutto questo e con Zerint vedremo si fa ancora di più perché abbiamo in qualche modo, grazie alla nostra esperienza sul campo ormai da 2015, oggi copriamo più di una decina di settori industriali in maniera persistente e siamo un player ormai globale, abbiamo installazioni e clienti in tutto il mondo, abbiamo in qualche modo capito che i problemi in fabbrica abbiamo due approcci, o entriamo in contatto col cliente e discutiamo della sua specificità, perché purtroppo ogni soggetto industriale si deve inventare il modo di lavorare per competere e vincere con gli altri, l'eccellenza italiana deriva proprio dall'aver creato industria mantenendo un approccio artigianale, questa è l'efficienza, oggi se andiamo in una fabbrica italiana riesce a gestire come se fosse, come se è, perché lo è, una industria ma mantenendo una qualità artigianale, questa è una peculiarità nostra, non è che esiste in giro, eppure voglio dire vanno avanti, non è che io gli posso imporre in modo di dire ok adesso grazie al digitale devi cambiare il modo di lavorare, devi lavorare come i cinesi, no, cioè in realtà io devo preservare quella che è la peculiarità ma devo in qualche modo valorizzarla con le tecnologie nuove, quindi nel fare questo lavoro alla fine abbiamo classificato tutte le tipologie di problemi in tre categorie, esistono problemi di visibilità e asset management, cioè qualcuno ha bisogno di capire le macchine che fanno, quanto sono sature e più o meno come gestirle in termini di manutenzione, salgo di livello esistono i problemi di efficienza, quindi ok la macchina lavora e funziona ma io eseguo un processo, questo processo quanto bene lo sto eseguendo rispetto al suo potenziale massimo, io sono contento a fare 100 pezzi al minuto ma ne posso fare 200? Cosa mi manca per passare da 100 a 200? Ricordatevi che lo scopo è il massimo con il minimo sforzo, oppure i problemi di efficacia, questi problemi di efficacia sono quelli che in particolar modo mi verrebbe da dire con un gioco di parole ho due molto efficaci a risolverli, cioè sono quei problemi sì ok tutti quanti siamo in fabbrica la mattina il processo perfetto ma la fabbrica non nasce per giocare con i processi, nasce perché c'è un cliente che ha comprato dei pezzi, vanno garantite delle consegne di certi quantitativi, abbiamo il magazzino della materia prima, va incastrato tutto, l'efficacia sta nell'acquistare la materia prima giusta per essere lavorata velocemente e consegnare la quantità richiesta nei tempi pattuiti, questo è un problema di efficacia, Odoo riesce a risolverlo in maniera eccellente con un approccio che noi abbiamo sposato da primo momento, noi come Zerint siamo clienti Odoo, quindi in realtà sono sul palco perché abbiamo avuto modo di utilizzare nella nostra azienda Odoo e oggi ci lavoriamo insieme perché riteniamo che sia sia a livello di enterprise ma a livello di community la strada giusta oggi, soprattutto in Italia e chiaramente abbiamo detto servono i dati, in Zerint i dati li tiriamo fuori guardando a qualsiasi tipo di macchinario categorizzandolo in tre blocchi, abbiamo detto serve produttività ed energia, bene ok, allora i macchinari si dividono, i macchinari di produzione, cioè se un macchinario è direttamente coinvolto in un processo produttivo, per me quello è un macchinario di produzione e da questo concetto tiro fuori che un macchinario di produzione può essere classificato tirando fuori da esso in qualche modo, anche se non è in grado di farlo da sé, 4-5 parametri, quindi abbiamo degli algoritmi che sono in grado ad esempio solo dall'assorbimento di corrente di quel macchinario, cioè il macchinario lavora, io non ci penso, guardo quanta corrente assorbe, nessuno forse ci pensa, Zerint ci ha pensato, il macchinario nelle sue diverse lavorazioni lascia una traccia nell'assorbimento di corrente, come se fosse un elettocardiogramma, da quell'assorbimento di corrente, oltre che i consumi, si possono derivare i tempi ciclo, anomalie, se il macchinario esegue ad una frequenza o ad un'altra, quindi posso discriminare i diversi tipi di lavorazioni, non si crederebbe quante informazioni si possono derivare fuori semplicemente con una pinza amperometrica, più altri segnali, segnali di allarme, abbiamo delle lampade rosse, posso mettermi in parallelo su una lampada rossa, per farla breve, poi vi invito a farmi domande o ci sentiamo, io per due giorni sarò qui, abbiamo dimostrato al mercato che io riesco a collegarmi in meno di un'ora ad un qualsiasi macchinario di produzione e lo caratterizzo, ti dico cosa fa, quanti pezzi fa, quanto assorbito, quanto consuma, quanto è il suo tempo ciclo e quante sono le sue performance, e in più riesco a dire ha lavorato su 24 ore, tot ore in un certo modo e tot ore in un altro modo, ad esempio discriminando tra working e idle, cioè è a lavoro o non ha lavorato, riesco anche a capirlo, ma in fabbrica esistono anche macchinari ausiliari, nessuno li guarda, non lo so, le cappe di aspirazione, le pompe, i compressori, i ventilatori, e se parliamo di efficientamento energetico, ho da guardare anche questi qua, perché è chiaro, io ho una linea efficiente, bellissima, funzionante, e poi mi si blocca un ventilatore, devo mandare tutti a casa perché non riesco a distribuire in maniera sicurezza i fumi. E i quadri elettrici? I quadri elettrici, tutti i macchinari vanno alimentati, abbiamo i quadri di distribuzione elettrica, beh se parliamo di efficientamento di un reparto, abbiamo visto che il credito d'imposta al 15% valorizza chi fa saving a livello di fabbrica, bene, il livello di fabbrica io li guardo posizionando la mia attrezzatura nel quadro di alimentazione di quella fabbrica. Questo cappello ho chiuso qui per dirvi qual è stato l'approccio, vediamo, mettendo in pratica questa teoria, noi l'abbiamo fatto da noi e oggi lo facciamo insieme ad Odoo, cosa riusciamo a tirare fuori? Allora andiamo diretti, diretti al caso studio. Abbiamo detto che noi ci occupiamo di digitalizzare macchinari e tirare fuori in una maniera clever, smart, oggi si utilizzano questi termini, delle informazioni che sono utili a capire cosa succede. Odoo dall'altra parte gestisce i processi con i propri moduli, immaginiamo il modulo produzione, il modulo manufacturing, riesce a gestire un processo in maniera eccellente ma ha bisogno di queste informazioni. Odoo e Zenit possono camminare in parallelo, io riservo problemi di efficienza, quindi dirò ai miei interlocutori, io ti digitalizzo i macchinari e ti do una serie di informazioni a schermo, Odoo può dire beh se tu chiedi al tuo operatore di dirmi quando apre e chiude gli ordini e mi dice quanti pezzi ha fatto io ti do visione di tutti gli ordini. Mischiando le due cose, mixando, io riesco a fornire in automatico a Odoo tutte queste informazioni grazie a un connettore che abbiamo oggi, già dall'anno scorso l'abbiamo lanciato, oggi è compatibile con la versione 17, lo trovate sullo store, chi volesse applicare il modulo manufacturing Odoo in fabbrica, nelle PMI, può grazie a Zenit utilizzare questo connettore e tutti i macchinari cominciano in automatico a mandare dati ad Odoo, dati su, ho consumato tot, ho fatto tot pezzi, sono partito, ho fatto questa lavorazione, ah il macchinario ha bisogno di questa ricetta, glielo passo io in automatico da Odoo la distinta base, gli passo la ricetta, queste cose qui. E grazie a questa, alla collaborazione con Bluemap che è un sistema integrato, un affiliato, un partner di Odoo, abbiamo messo in piedi questo connettore per fare questo tipo di attività, quindi i vantaggi sono che metto in collegamento automatico macchinario, quindi shop floor con Odoo, riesco quindi a fornire dati in automatico evitando che sono gli operatori a metterlo, in più in Odoo vado a inserire tante informazioni in più, tipo i consumi, per cui uno appartiene a un sistema integrato, un player della community, può utilizzare quelle informazioni aggiuntive per andare a fornire customizzazione ai clienti, gli può dare altre interfacce, altri tool, tanto noi li teniamo fuori quei dati dai macchinari, e li diamo in Odoo. Vediamo il caso pratico. Quest'anno si è passati dalla teoria alla pratica, abbiamo fatto diverse esperienze, vi ho portato in condivisione questo caso con Tacobi, che è un provider di soluzione Odoo, abbiamo installato presso Mopec Europe Odoo, quindi c'era l'Io2 versione 16, a quel punto Mopec è un'azienda che si occupa di costruire macchinari in ambito sanitario, quindi c'ha lavorazioni laser per il taglio di lamiera, c'ha le piegature, le presse, c'era un problema di capire come gestire i flussi di lavoro, gli ordini e così via. L'esperienza ha voluto che la combinazione di Zerint che monitorasse i macchinari, quindi noi la pressa e il laser li abbiamo digitalizzati, abbiamo ribaltato i dati in Odoo, che cosa è successo? Innanzitutto si è portato ai massimi livelli l'efficienza di lavoro, cioè in Odoo abbiamo in qualche modo spinto, ma lo ha stabilito il cliente stesso, a tenere in ordine le distinte basi, perché ha capito che creando le distinte basi dei prodotti che deve produrre, quindi il materiale che occorrono e le lavorazioni, è possibile fornire, grazie allo scambio di informazioni con Zerint, all'operatore non solo la coda di lavorazione, per cui va sulla macchina e sa esattamente quali cose deve fare, ma ha scoperto il cliente stesso che tra le informazioni ce n'è una che è lo spessore ad esempio della lamiera, che era comune a ordini diversi, quindi dice io senza aver visto che ci sono ordini diversi che hanno lo stesso spessore, io avrei lavorato in ordine l'ordine 1, l'ordine 2, l'ordine 3, grazie invece ad aver visto che esistono ordini diversi con lo stesso spessore, io ordino tutte le lavorazioni per spessore e utilizzo la macchina una volta in parallelo per lavorare con lo stesso spessore ordini diversi, cioè si è innestrato uno scambio di questo tipo, per cui l'ufficio tecnico oggi riesce a produrre un file che è il dxf, che è un file cam, dove ci sono i tracciati, quindi i disegni, quindi per la laser qual è il tracciato di taglio e ci sono delle informazioni sulla piegatura, sui settaggi della macchina, questo file grazie a zerint, normalmente senza zerint deve essere preso e manualmente caricato nella macchina in modo che l'operatore possa lavorare e c'è da fare un'associazione, io sto lavorando questo ordine, devo prendere il file giusto, lo carico e lo metto, grazie a zerint, perché c'è una corrispondenza tra macchinario e centro di lavoro che è 1.2, il file viene caricato automaticamente nella coda degli ordini di lavoro, quindi avremo la visibilità di questi file e il cliente in automatico ha scoperto che può efficientare il processo aggregando ordini per questo spessore, chiaramente lo scampio è bidirezionale perché poi tutte le informazioni che noi leggiamo, parte la macchina, parte la lavorazione, riusciamo a ribaltarle di nuovo in O2, per cui in real time chi ha lanciato un ordine su O2 vedrà ogni minuto cosa sta succedendo su quella macchina, quanti pezzi sono stati fatti, quanto si è consumato per fare quei pezzi e così via. C'è una domanda lì al centro. Buonasera, grazie per la presentazione, per la relazione, è molto interessante. Una domanda mi viene da fare, ossia in ottima di efficientamento una delle soluzioni che si comincia a proporre ai committenti è la rimozione delle armoniche nella rete che causano naturalmente problemi e l'efficienza che si può raggiungere, riduzione del sparmio energetico del 10 fino al 30% in alcuni casi. L'unico problema che mi pongo è questo perché non ho esperienza e quindi faccio la domanda. I pattern di corrente che poi generano queste armoniche e quindi vanno eliminati, in realtà per voi sono la risorsa che vi permette di controllare magari una macchina che non ha l'elettronica a bordo per i rilievi telemetrici, insomma. Come conciliate questi due aspetti e se li conciliate? Assolutamente sì, ora qui si parla solo di Zenit. Zenit, dicevo, entra nel merito dell'alimentazione delle macchine anche perché si è capito che tanto dell'inefficienza o dei costi energetici, immaginiamo i picchi o le eccedenze o gli sbilanciamenti, perché lo sbilanciamento viene anche penalizzato, deriva dal fatto che non si ha visibilità su quello che accade a livello di alimentazione. Noi nelle nostre dashboard dove è richiesta o è percepita, perché poi c'è una parte interlocutoria con i clienti, l'analisi quando andiamo a installare praticamente il nostro sistema di monitoraggio dell'andamento della corrente, se ci rendiamo conto perché abbiamo dei KPI preliminari, ad esempio che ci sono sbilanciamenti, andiamo a integrare con dei power analyzer nei punti chiave, per cui non lo so, in alimentazione nel quadro elettrico vado a installare dei power analyzer e i power analyzer vanno a leggere armoniche fino alla 51esima, il THT, vanno a fare cose in fi e lì chiaramente, come dire, la parte di analisi, per cui si derivano le criticità e quindi si va anche a capire se vale la pena, perché può sembra un costo beneficio, perché non è semplice eliminarla quella roba lì, non è così banale. se dovessimo verificare che il problema è tale per cui effettivamente si arriva a risparmiare il 30% e il 20%, noi andiamo ad agire assolutamente sulla parte, voglio dire, elettrica, lì è quasi un energy management però, noi ci entriamo come Zerint, in realtà, attenzione, anche qui non ne sono visibili, le inefficienze di produzione a netto della corrente sono anche quelle talmente alte che noi tanti clienti credevano e facevano preventivi su lavorazioni custom, credendo che le macchine lavorassero con un certo tempo ciclo, dopo aver soltanto calcolato il tempo ciclo erano sotto di tre fattori, cioè questi credevano che ogni pezzo su una certa laser uscisse ogni 20 secondi, 30 secondi e stavano a due minuti e non capivano poi le oscillazioni, di notte diventavano quattro, di giorno due, per cui diceva, ma quindi che posso fare? E cominciamo a capire allora come queste macchine devono andare a target e quindi cominciamo a capire chi mettere dove, quali macchine mettere in lavorazione per fare quei 20 secondi e bastata un accorgimento? Questi hanno recuperato tre volte il costo per dire che significa non avere visibilità e averla questa visibilità, quindi sì. Allora, per la demo possiamo fare in questo modo, visto che abbiamo un po' di problemi, prepariamo un video breve, lo registriamo e lo agganciamo poi alle slide che pubblicheremo sul nostro portale dopo l'evento. Poi invito a tutti comunque, chiaramente non nell'immediato, ma nelle prossime settimane a visitare il portale di O2 Italia perché poi carichiamo tutti i video, tutti gli interventi, tutte le slide, quindi andiamo a rilasciare tutta la documentazione di questi due giorni, quindi agganciamo anche il video dimostrativo. Io mi prendo solo allora 30 secondi, sono un po' fuori, avevo delle slide, praticamente immaginiamo lì c'è la finestra, questo c'è la, non ce l'ha no? Un laser? Comunque abbiamo la finestra dove c'è la macchina, il centro di lavoro, chi entra in O2 vede i centri di lavoro, cliccando sul centro di lavoro escono, esce tutta la coda degli ordini che si possono eseguire. Se io apro un ordine, qui in pratica nel tab c'è scritto Z Data Cloud Configuration, è un tab nuovo, chi clicca su quel tab troverà innanzitutto la possibilità di caricare un file per mandare il programma di lavorazione di quella macchina, quindi la macchina ha bisogno di un programma, immaginiamo laser, lo fa stesso da O2 perché sfrutta la capability di Zerint di prendere quel file e programmare la macchina, evitando che quest'operazione la faccia l'operatore, quindi questa cosa qui è fondamentale perché risparmia, tante volte si è scoperto che le macchine andavano con un programma modificato credendo invece che fosse quello caricato nella distinta base e si è scoperto che noi in realtà erano gli operatori che modificavano il programma e rendevano purtroppo per loro, perché lo facevano con un buon obiettivo ma purtroppo no, inefficiente il processo. E come si suol dire il problema è sempre tra la sedia e la tastiera. E la cosa peggiore è che tutti vogliono fare il bene, perché se fosse il cattivo uno lo inquadra e dice lui è cattivo, invece sono tutti buoni, quello è il problema. Va bene, allora facciamo un applauso Emanuele, grazie per l'intervento interessante.